Porte aperte all'Istituto InfoBasic di Pescara, istituto che da ormai 24 anni si occupa di fornire agli studenti un'alta formazione certificata a livello internazionale nel campo dell'Information Technology, della comunicazione visiva e del design. Grande partecipazione all'Open Day, ragazzi affascinati dai percorsi innovativi e tecnologici presentati, obiettivo principale è quello di formare professionisti pronti a entrare nel mondo del lavoro. Crediamo molto in quello che è il rapporto umano e quindi cerchiamo durante anche la presenza dei nostri studenti all'interno del nostro ambito e del nostro istituto di seguirli e portarli a braccetto a quelli che sono i risultati finali, che per noi non solo sono circoscritti magari al riconoscimento che possono conseguire al termine, ma per noi la cosa più importante è garantire davvero un'opportunità di lavoro. Quindi consentire a tutti di svolgere un periodo di stage, ma che poi è un periodo di stage concreto all'interno delle aziende, lavorativo. Perché lavorativo? Perché mi riallaccio un po' a quello che è il criterio nostro per quanto riguarda la formazione e la didattica, cioè quello di incentrare il 90% del piano di studi su una forma che è quella pratica. Quindi lasciamo la teoria, se vogliamo, ad un 10%, ma poi tutto ciò che andiamo ad insegnare lo facciamo in forma pratica, somministrando dei progetti pratici, dei progetti che spesso sono anche reali, cioè realmente commissionati dalle aziende che ce lo richiedono. E quindi i ragazzi in questo modo entrano immediatamente nella forma mentis, che è quello del settore dove si vedrà, si spera, protagonisti. Dalle triennali alle specializzazioni, offerta vasta che risponde alle esigenze più recenti del mercato, si spazia dal web design alla cyber security, dallo sviluppo software all'exhibition design e non solo. Il percorso triennale all'interior design si occupa di indagare tutti gli ambiti dell'arredamento di interne, delle strategie tecniche appunto di arredamento degli spazi, sia in ambito residenziale che commerciale, che soprattutto nelle nuove tecnologie immersive applicate negli spazi museali, negli spazi fieristici, quindi diciamo nell'ottica della realizzazione di eventi. Quello che qui all'istituto teniamo a mantenere è un'impostazione di grafica a 360 gradi, quindi il nostro percorso formativo è un percorso formativo innovativo e allo stesso tempo interattivo. Nel nostro triennale di web si passa appunto nel contatto con il cliente, alcuni progetti che i ragazzi realizzano sono reali, quindi hanno proprio a che fare con un cliente, con le richieste e tutto il resto. Da questo primo contatto poi si sviluppa la parte di progettazione del sito, quindi l'organizzazione delle pagine. Iscrizioni ancora aperte e agevolazioni per chi presenterà domanda fino al 15 aprile. iscrizioni ancora aperte e agevolazioni per chi presenterà domanda fino al 15 aprile. Grazie a tutti.